Oscar Camps, voi siete dei soccorritori di Badalona, arrivati a Lesbo un mesi fa. Non siete assunti, nessuno vi paga per questo. Fino a quando resterete? Quando non serviremo più, ce ne andremo via. Dobbiamo andare. Io vado a Lesbo. Ma che significa? Che vuol dire vai a Lesbo? Vado a dare una mano ai soccorritori greci. Col primo volo partiamo. No, restiamo qui. Oscar, me l'hai promesso, due giorni. Come potevo sapere che era così? Resto a fare il nostro lavoro. Grazie. Che ci fa qui? Forza, ti accompagno all'aeroporto. Perché? Sei il padrone dell'isola? Sono tuo padre. Oh cazzo, ogni tanto me lo scordo. La Turchia è vicina, eh? Quanti ne attraversano? Al giorno? Quanti? Anche 3.000. Non è quello che hai fatto finora. Oscar, io sono pronta. Ma se aiutate quelli che vengono, non ne verranno di più. Sono un soccorritore, nient'altro. La legge del mare dice che la vita va salvata. Che non puoi lasciare un naufrago alla deriva. È questo che facciamo noi. Niente di più, né di meno. Nessuno ha invitato quelle persone. Nessuno ha invitato voi. Ci permette di usarle? Per farci cosa? Ma che dici? Sei venuto qui per una foto? È una crisi umanitaria troppo grande per noi. Noi siamo la squadra speciale che risolve la faccenda. Tutto qua. Guarda che sono qui per aiutarti, stronzo. Proteggerti. Da che cosa? Da te stesso. Che direbbe a chi non apprezza quello che sta facendo? Che direbbe a chi non apprezza quello che sta facendo?